La coltivazione di cannabis in casa, in tutto, tre piantine che quest'anno hanno portato alla raccolta di 60 grammi di marijuana. Mattia Santori, consigliere comunale con delega al turismo, ha raccontato di avere tutto l'occorrente per la coltivazione domestica. Il fondatore del movimento delle sardine e promotore di iniziative per confrontarsi sul tema come i cannabis talk, le cui dichiarazioni sono state riprese da Repubblica, ne ha parlato qualche giorno fa durante gli stati generali sulla cannabis che si sono svolti a Milano. Mi faccio le canne da quando ho 18 anni, spiega Santori. Poi un giorno mia sorella, rientrata da Amsterdam, mi ha portato dei semi, un regalo goliardico. Li ho piantati ed è andata male. Ho comprato l'occorrente e solo al terzo tentativo sono cresciuti. Insomma, non solo la consumo, ma la autoproduco per uso personale. Al momento, ammette, l'autocoltivazione è equiparata allo spaccio, per cui rischio sino a sei anni di carcere. È assurdo. Non a caso, le corti riunite della Cassazione hanno già indicato ai tribunali di considerare poche piantine come uso personale. Ora tocca al Parlamento muoversi. Santori afferma di acquistare i semi da un canapaio che, sottolinea il consigliere, paga le tasse. Ho comprato le mie attrezzature e tutto questo è già legale. In questo modo so dove vanno i miei soldi. Il mercato della cannabis alimenta la criminalità organizzata. Io non voglio che il mio consumo ricreativo di una canna ogni tre giorni vada ad arricchire un criminale. Per questo gli dico che il mio è un comportamento virtuoso. L'erba crea dipendenza è provato scientificamente, prosegue Santori, che non è così. Poi è chiaro che occorrono politiche di intervento su un consumo problematico. Ma non è meglio allora che il tuo consulente sia un esperto che ti vende i semi e non rubaccio piuttosto che un pusher nelle cui mani finiscono i minorenni? E dopo le parole di Mattia Santori interviene anche Walter Giovannini, magistrato in pensione per otto anni, procuratore aggiunto a Bologna. Considerei a chiunque voglia intraprendere azioni analoghe, afferma il magistrato, di leggere meglio le sentenze della Cassazione. Se c'è attrezzatura idonea e lampade, forse la coltivazione non è da considerarsi rudimentale. E' quindi penalmente rilevante e questo al di là dell'uso personale dichiarato. In ogni caso, conclude Giovannini, la valutazione spetta sempre al magistrato penale all'esito dei dovuti accertamenti.